Il privé dello stupefacente ha riaperto solamente dopo qualche settimana di chiusura. Stiamo parlando dell'edificio abbandonato dell'ex caserma Cadorna, diventato ormai un vero e proprio salottino del degrado. Le nostre telecamere alcune settimane fa avevano documentato la situazione in cui versava la palazzina. All'interno avevamo infatti trovato alcune siringhe, accendini ed altro corrente per la preparazione delle dosi, ma non solo, anche materassi, stampelle, una bombola incustodita dei segni inequivocabili della frequentazione di quei locali. La porta d'ingresso dopo il nostro servizio era stata chiusa, ma nel lucchetto e nella catena hanno fatto desistere gli abituè. Il portone è stato infatti riaperto con un grosso masso di cemento e al suo interno tutto è rimasto come prima della chiusura, cioè in totale balia del degrado e dello squallore. Come impressione, quando specialmente la notte si viene a parcheggiare, buona non è. È vero anche che io ho subito un furto qua, mi hanno rotto il finestrino della macchina, mi hanno portato via del materiale dentro, l'autoraglio e tutto quanto. Però insomma, per ora non è critica. Certo, non fa una bella impressione, quella no. Ma è il giro che può essere là verso l'università, si raggruppano quelle scale esterne. La notte? La notte, più che altro. Cioè, quando comincia a far buio, penso che ci sia un po' di giro di droga e roba del genere. Qua invece, questa è la zona dei bucati, la chiamano, perché ci sono degli eroniomani. Eccetto un po' di deterrenza non farebbe male. Questa è una terra selvaggia per molti, quindi non essendoci controlli, non fanno quello che vogliono. C'è un giro strano anche qui dietro e qualche volta si è fatto anche qualche telefonata, ai vigili sono venuti e hanno fatto qualche perquisizione. spariscono per un periodo e poi dopo ritornano. Anche nei giardini, dalla parte di là, vicino al liceo scientifico, anche lì abbiamo fatto delle segnalazioni, anche io stesso ho telefonato, perché succede più o meno quello che succede qui.